Buone notizie per la viabilità interna alla provincia grigentina. Sono in arrivo finanziamenti per il ripristino di alcune strade provinciali da tempo chiuso al traffico. Il Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità ha infatti stanziato fondi per una copertura finanziaria complessiva di 4.900.000 euro per sei dei 17 progetti redatti dal settore infrastrutture stradali del Libero Consorzio di Agrigento. Per questi progetti, ha assicurato il Dipartimento Regionale. Il decreto di finanziamento verrà emesso entro il mese di maggio 2017, così da avviare entro il più breve tempo possibile l'iter per le gare d'appalto. Nello specifico, sei progetti a cui è stata data priorità sono la strada provinciale 24A Cammarata-Stazione Cammarata, la strada provinciale 34 Bivio-Tamburello-Bivona, la strada provinciale 20A Stazione Acquaviva-Castel Termini, la strada provinciale 2 Montaperto-Giardina-Gallotti, la NC3 Cotonaro-Lavanche, infine la strada provinciale 3B Favara-Bivio-Crocca, la strada provinciale 80 Baiata-Favara-San Pietro e la NC7 Esachimento. Una notizia che farà certo felice la cittadinanza favarese, in quanto verranno ripristinate anche tre strade importanti per collegare la città dell'Agnello Pasquale con alcune delle più importanti arterie provinciali. Il finanziamento per il progetto relativo alla strada provinciale 3B Favara-Bivio-Crocca, la strada provinciale 80 Baiata-Favara-San Pietro e la NC7 Esachimento avrà un importo complessivo di 350.000 euro. Per quanto riguarda invece gli altri 11 progetti proposti dal libero consorzio, verranno finanziati con appositi decreti entro la fine del 2017, con un ammontare complessivo di circa 9 milioni di euro.